Si conferma che il Rotolo porta bene anche ai Goodfellas, ma poi c'è Giuffre, c'è Giuffre. Vi l'hanno spiegato per Rotolo. Ah sì, ma ora le vinciamo tutti. Ecco, va bene. Complimenti ragazzi, una bella vittoria oggi. Tra l'altro chi gioca contro il Radio di Fatim è un po' giocatore in trasferta. Oggi avete... Pagano, spettino. Poi i Patatinaikos con il vostro amico Pagano, sempre avvisato capo ultra. E allora, Vittorio Rimonta, bella. Minnella entra, segna, fa assist. Ma Pairo, ma non Pairo! No, confermate? Non ho fatto solo questo. Il Retro è tornato poco, non faremo le giugno. Non farei Giuffre e Giuffre. Mentre indovina continua ad essere in Malus. Si, hai fatto perdere 0.6 punti. E vabbè, dai, dai. Pagano, eccolo qua, Pagano. Oggi è stato merito di Pagano. Che ha creato, è improvvisato una curva pro Guittal. Abbiamo creato una curva all'ultimo canale. Ora io ho la testa l'onorario della squadra. Ero la Patatinaikos. Comunque. È stato un piacere. Dimenticata la sconfitta dell'altra volta. Tra l'altro quel compagno lì, penso che ancora qualcuno se la fogna di nozze. C'è il conto già prima. Non l'ha fatto. Non ce lo so, giustamente non ce lo so. Non ce lo so, giustamente non ce lo so. Non ce lo so, c'è cosa ogni altro. La classifica si fa sempre più costa. Voi la guardate con molto interesse, vedo. Sì, nel primo posto è il nostro entro due giorni. Massimo, seguito. No, gli Oblixi mi dedichiamo. E gli Oblixi? Voi che ce l'avete tanto con gli Oblixi? Ieri hanno perso contro i noi. Ovviamente, che nessuno si presenta a quelli. C'è Corsale che si aggira e ci vuole fare vedere. Non c'è Corsale, non so dove è Corsale. Hanno paura se ne sono andati. Comunque gli Oblixi fra un annetto massimo. Beh, dipende anche da voi. No, sicuro da voi. Questa che si ritirano prima. Sono molto scarsi, quindi ormai... Allora, prossimo turno avete i Bronx. Russo contro i Vinghi. Prima era il tuo compagno. Pagano, cosa c'è? Guarda come perdi i capelli quello scaduto. Ma, ma, poverino, lascialo stare. È arrivato. Mi hai sofferto pure tu in questo momento. Ma, fai, non ho detto niente. Non ho detto niente. Lui ancora che lotta miracolosamente. Si piglia Vinghi, le cose. C'è il trapianto. Ma, cambiamo discorso, amici. È un applauso di vincente. Lo stregone che dice. Giovi accetta. Lo stregone che dice. È genetica, quindi... Quando vai? Ma, giovere qua a fare i capelli, i capelli ce li ho più o meno. Lui è arrivato. Bello i fratelli che si insultano. Il Blue Devil si sono fermati. Oggi con i Gunners. Ma i Gunners... È stato un po' a sorpresa. Ma i Gunners hanno avuto qualche modo. No, no, sempre gli stessi sono. Tra l'altro vincevano 4-1. Due autodolle di spatola che gioca da loro. Purtroppo... Chi ha spatola? Spatola che gioca nei... Infatti era lo spiega. Se la giocavamo con lui, infatti. Va bene, ragazzi. Voi comunque vi fate il vostro campionato. Con questo Minnella, poi. Con Minnella? Non è sempre il fettore un campo. Allora, io vado a questo Minnella. Lanciamolo, sto Minnella. Lanciamolo. Vabbè, va bene. Vabbè, va bene. Ok, ragazzi. Allora vi lascio andare a casa. Con il rotolo, però, eh. Va bene. Ciao, ragazzi. Alla prossima. Ciao, 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 ciao. Ciao, ciao.